Provate per una sera a intervistare seriamente un noto attore barese che ha vissuto la sua vita molto più sul palco che forse a casa propria e dategli la possibilità di aprire la stagione teatrale della vostra città, magari interpretando un riadattamento di un classico, di un noto scrittore italiano. Ecco, amalgamate per bene tutto e otterrete Gianni Ciardo al Teatro Traetta di Bitonto che interpreta in Antrepima Nazionale il Novecento di Baricco, riadattato alla sua maniera. Un uomo solo sul palco da nome Firivolo, Primo Novecento, che cerca di farsi aprire il portone di uno strano palazzo abitato da personaggi del calibro di Vittorio Gasman, Carmelo Bene, Paul McCartney e addirittura da Dio, ma non riuscendoci investe le ultime speranze suonando il campanello del portiere al quale è costretto a raccontare la sua vita fra giochi di parole, aneddoti e strane storie. Uno spettacolo da vedere con un Gianni Ciardo diverso dai suoi canoni comici che giocando sull'onda dei ricordi ti porta a spasso di quella nave dove ha sempre vissuto fin dall'infanzia e dove ha trovato la morte. Molto bello l'incontro con il portiere del palazzo, Franco Ferrante, e il loro lungo colloquio a due che porta Primo Novecento ad accognare la sospirata apertura dei cancelli del cielo. Pochi minuti prima di andare in scena si apre ufficialmente la tua rassegna qui al Teatro Traetta, le tue prime emozioni. Le emozioni ci sono sempre, soprattutto quando un comune, scusate il termine, ti dedica una stagione intera, ti ospita per una stagione intera ed è un prestigio davvero da parte mia naturalmente, ad accettare questa cosa qua. Perché il teatro è, il teatro, attenzione, non i bagni di folla, non le occasioni e non, nonostante alcune volte il teatro viene confuso perché, per esempio, quando dicono, ma quello è teatro amatoriale, il amatoriale è importante, il teatro amatoriale, perché amatoriale, lo dice la parola stessa, amatoriale, cioè che ama l'attoriale, quindi è amore, più amore di quello non esiste, il resto possono rimanere sotto delle illusioni solo perché uno fa i bagni di folla, i cosiddetti bagni di folla, però il teatro è un'altra cosa. Poi si nasce, si nasce, non si impara, e poi non è un mestiere, non è un mestiere, questa è una fortuna essere nati con quest'idea di quello che davvero è il teatro. Avendo vissuto, sono 40 anni che faccio teatro, nonostante me, ho capito tante cose. Che cosa vedremo stasera? Beh, praticamente questa è la trasposizione di quello che, per chi non ha visto il film, allora il film è la leggenda del pianista sull'oceano, con Tim Roth e altri grandi mostri del cinema. Abbiamo fatto, grazie anche a Baricco, che è l'autore di Novecento, dal quale Novecento il regista ha preso e ha fatto il film, Tornatore, la storia che nasce come un monologo. Beh, questo monologo lo abbiamo sceneggiato a teatro, perché il teatro va sceneggiato e quindi questo è il risultato, che non sappiamo qual sarà, perché la prima è sempre un'incognita, che non è una parola altra, l'incognita è l'incognita, lo dice la parola altra, incognita. Un Gianni Cialdo molto bravo da rivalutare nella sua presenza scenica ed un Franco Ferrante che, suo malgrado, è costretto a seguirlo nel suo saliscendi di parole, a volte inutili, a volte pieni di rimpianti. Grazie. 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 Grazie.